Bella a tutti ragazzi, sono Federico e bentornati sul mio canale YouTube. Allora, la settimana scorsa che video vi ho portato? Vi ho portato il video in cui vi mostravo come fare a basso budget, attorno ai 160€, un outfit nello stile di Sfera, dove ho analizzato vari outfit del rapper italiano. Nell'episodio di oggi farò la stessa cosa però con un altro rapper nostrano che negli ultimi mesi è andato veramente up, diciamo così. E poiché la settimana scorsa ho parlato di Sfera, oggi non potevo non parlare della canaglia, ovvero di DREF Gold, DREF. Quindi come ho fatto con Sfera, in questa puntata di oggi replicherò per voi a basso budget, quindi con pezzi abbastanza economici che si possono permettere tutti, lo stile o un outfit in particolare di DREF Gold. Qua attorno, adesso vi ho messo quelli che reputo i migliori outfit di DREF, alcuni sono molto semplici, li vedete qui, però secondo me quelli che spiccano, anzi quello che spicca di più, è questo qua. Questo qua in cui DREF indossa un giacchetto di Sherpa, lo vediamo appunto presente seduto in questa foto, con questo Sherpa color crema, molto figo a mio parere, un borsello, anche quello bianco, quindi si sposa abbastanza bene, un abbinamento, un paio di jeans con delle cuciture sulle ginocchia, quindi del mondo dei biker, quelli che adesso sono super indossati ma che andavano già dal 2009, mi pare, quando Balmain, anzi il designer di Balmain, Christophe Descarnin, introdusse il primo jeans biker. Comunque sia, torniamo a noi. Per riprodurre lo stile e quest'outfit di DREF, cosa ho fatto? Ho fatto un giro su ASOS, il sito inglese, dove si trovano bei pezzi a mio parere, bei vestiti, begli indumenti, anche begli accessori, a bassi prezzi, soprattutto adesso che siamo sotto periodo di saldi. Ho fatto un po' di ricerca e lo Sherpa che si avvicinava di più a quello di DREF, anche se è a bottoni, mentre quello di DREF è con la zip, comunque a livello di colore e dettagli, è questo qua. Sherpa che viene a costare solo 29,99€. Quindi adesso mi accingo a ordinarlo dal sito di ASOS e cerchiamo anche un borsello che riproduca e si avvicini a quello di DREF. Eccolo qua, il borsello che ho trovato, che secondo me si sposa benissimo anche con lo Sherpa che ho appena ordinato, anzi che ho appena messo nel carrello, è questo qua. Quindi è un borsello, anche questo bianco, color crema, in tessuto pile, che sinceramente non so come sarà poi di persona, però proviamo perché nell'outfit, proviamo a comprarlo perché nell'outfit si poserà di sicuro benissimo. Per il jeans, allora guardate, il jeans biker in questo periodo dei saldi, quando andranno l'altra volta a prendere più o meno per il video di Sfera e Basta, ce n'erano una cifra da Zara, veramente un'infinità. Quindi dopo che faccio? Faccio un salto in centro da Zara e compro anche un jeans che si avvicini il più possibile a questo indossato da DREF Gold. Ora ci viene da fare da aspettare però il pacco che arrivi di ASOS con lo Sherpa e il borsello, quindi ci sarà un salto temporale e ci vediamo tra qualche giorno. Rieccoci qua, adesso, oggi è arrivato questo fantastico pacchetto da ASOS. Allora, uno, lo Sherpa. Ha un bel peso. Due. Il borsello. Sembra figo. Dai. Allora, apriamo a sua volta lo Sherpa qui. Questo è proprio brand marchiato ASOS, un prodotto di ASOS. Non è affatto male al tatto, sembra super caldo, molto soffice, quindi anche il materiale, lo Sherpa di poliestere, perché ovviamente il poliestere questo non è vero montone. È bello al tatto, abbastanza morbido. E dentro la giacca è foderata con una tela di cotone. Quindi, il pezzo sopra adesso ce l'abbiamo, nello stile di quello che ha indossato DREF in questa foto. Dopo, ovviamente, a fine video, me li metto addosso tutti questi pezzi che ho comprato, compongo l'outfit e vediamo se vi piace, mi commentate sotto al video, mi fate sapere che ne pensate. Prendo il borsello qua, eccolo qui, borsello in pile, super match con la giacca, ha una tasca fuori con la zip e anche una tasca ovviamente la più grande con la zip, con vari scompartimenti all'interno. Fatto molto bene. Questa aveva un prezzo di 9,99€, mentre la giacca a scerpa 29€. Qua ovviamente ci sta la tracolla, non male. Per il prezzo mi sembra perfetto per la sua funzione e anche all'interno dell'outfit di DREF. Io sono passato a Zara, c'erano un sacco di jeans bike che era saldo, solo che non ce n'era uno nel colore esatto, nello stesso lavaggio, questo azzurro un po' non troppo chiaro ma nemmeno troppo scuro, che è a DREF. Quindi ho optato per un altro jeans, sempre il modello biker. Adesso vediamola assieme. Eccolo qua. Jeans con lavaggio grigio, con le cuciture qua sulle gambe, i ribbings, come dicono gli inglesi, che definiscono questi modelli tipici dei biker. Qua al ginocchio altre cuciture degli strappi e un fondo, una larghezza del fondo, qua alla caviglia, molto skinny, come l'indossa DREF. Questi venivano a un prezzo molto popolare, a saldo, 14,99€. Quindi adesso abbiamo anche il pezzo sotto. Direi che l'outfit è completo, manca solo indossarlo. Come per quello di Sfera, teniamo al di fuori del totale, del budget, delle scarpe. Poi in questa foto, DREF indossa delle Air Max 90 per Off-White, che a Resel si aggirano sui 400€, quindi diciamo che non è di certo un pezzo economico. Ovviamente però delle Air Max 90 in belle colorway, anche a saldo, si possono trovare facilmente, anche attorno ai 100-110€. Io comunque l'outfit ve lo compongo le 90 per Off-White, dato che ce l'ho a questo punto, perché non usarle per la foto, e vi allegro le due foto qua, proprio adesso. Ecco qua appunto le due foto, le due scatti del mio outfit, poi ci ho aggiunto anche un'occhiaio alla donna, perché DREF li porta in continuazione, anche nella foto originale, quindi perché no? Ricapitolando, il costo totale dell'outfit è di 15€ del pantalone, 14,99€, 30€ dello Sherpa qui, di ASOS, e 10,99€ del borsello, sempre da ASOS. A questo punto, dato che il totale fa 54€, e come vi ho detto prima, le Max 90, con belle colorway basics, però anche a saldo fra i 110-120€, direi che l'outfit in intero, anche concludendo le scarpe, si aggira a non più di 180€, quindi comunque sia economico per vestirsi nello stesso stile di DREF GOLD. E anche oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata di come vestirsi nello stesso stile o lo stesso outfit di uno dei vostri rapper preferiti. Fatemi sapere tra i commenti di che altri personaggi, sia della scena artistica, e rap italiana, sia quella estera, magari volete che vi porti una proposta di outfit o di stile a basso budget, scrivetemelo qua nei commenti. Vi ricordo poi che nei tre link in descrizione e nei tre link che trovate nel commento pinato in alto ci sta in ordine i link al mio account Instagram, quindi mi raccomando seguitemi per rimanere sempre aggiornati con i miei post, i miei outfit, le mie stories, i miei giveaway completamente gratuiti e anche le mie refalk con i biglietti ad estrazione con un premio sempre abbastanza figo nel mondo dello streetwear o delle sneakers. Il secondo link è il link al mio negozio Big Cartel, andateci se volete comprare pezzi streetwear o anche delle Yeezy, ne ho messo in vendita due paia ieri, quindi andate a darci un'occhiata. E il terzo link è il link per iscrivervi a Drag Fashion Club, che è il gruppo di streetwear e sneakers e anche moda in generale più grande in Italia su Facebook, quindi se vi piace questo mondo vi consiglio di iscrivervi. Da Federico per oggi è tutto dopo questo video a proposito di DraftCold spammate quel tasto di like se vi è piaciuto il video noi ci becchiamo una delle prossime volte sempre qui sul mio canale e bella a tutti! Grazie a tutti!